6 maggio le tue orecchie udranno dietro a te una voce isaia 30 21 hai bisogno di una parola una parola che giunge da dio può essere la soluzione ad un problema il signore creò il mondo con un semplice comando perciò prova ad immaginare ciò che potrebbe fare un suo cenno nella tua situazione per quanto ingarbugliata possa essere la bibbia afferma quando andrete a destra o quando andrete a sinistra le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà questa è la via camminate per essa dio dà una parola a quanti hanno l'orecchio dischiuso ma soprattutto il cuore rotto quando preghi che cosa ricerchi un'emozione spirituale che commuove o un momento di intensa intimità con il signore costituita da un dialogo quasi a senso unico laddove egli parla dolcemente al tuo cuore e tu rapito ascolti quando leggi la bibbia cerchi una conferma ai tuoi pensieri personali o ricerchi davvero la volontà del padre qualora avessi grandi propositi per il tuo domani impegnati fin da oggi a conoscere meglio dio poiché egli si rivelerà attraverso la sua parola ogni giorno sentirai tante idee diverse alcune utili altre meno ma quando riceverai una parola dal signore quella sarà guida e forza per la tua vita